avevo scritto un progetto per raccontare le due grandi tensioni della venezia di oggi il turismo nell'acqua alta e il 22 febbraio 2020 ero pronto per partire ma non potevo immaginare che cosa stava per succedermi tutti noi non potevamo immaginare che cosa stava per succederci sembra di essere tornati a 40 anni fa canale del bacino canale della giudecca senza un'onda saranno stati boh millenni che il canale della giudecca non era così non ho mai capito se appartengo a venezia o no mio padre è cresciuto a venezia mio padre era silenzioso mia nonna ancora di più era come se di quella loro città mi nascondessero qualcosa che non capivo ma dire il vero mio padre mi nascondeva molte cose era uno scienziato studiava i movimenti delle molecole di piccoli invisibili elementi naturali che non vediamo ma che determinano l'evoluzione del mondo